forse questa è una stupidaggine ma molto ma molto utile per il computer che metterò qua sotto ho preso questo e sia lo sdoppiatore del dei jack tutto dorato è uno sdoppiatore buono l'ho preso all'incirca 3 euro non mi ricordo bene ma è buono affidabile prendetelo su amazon che è molto buono guardiamo tutta la placata in oro e ci servirà con il nostro pc per sdoppiare le due casse perché metterò per il pc sia questa sia quello che aveva preso per il pc dell'ufficio quelli della tasti si e metterò tutte e due le casse ok ragazzi ci vediamo ad un prossimo video